Seconda parte di trasmissione dedicata a un nuovo ingresso nella programmazione di MTB Granfondo, ovvero il circuito Hill Cup, sei gare in cinque regioni d'Italia, gare che sono partite domenica 10 maggio da Prato in Toscana per la gara da piazza a piazza, seconda prova questa Graspalonga da Castelvetro in provincia di Modena. Dalle Dolomiti agli Appennini è il leitmotiv della Hill Cup, ovvero sono sei gare su cinque regioni italiane, Toscana, Emilia, Trentino, Lombardia e Marche, come vi dicevo in apertura di telecronaca, quest'anno MTB Granfondo seguirà alcune di queste sei prove programmate dall'organizzazione. Sono partiti da Castelvetro, centro medievale molto bello, all'interno della rocca della cittadina in provincia di Modena per una gara point to point di 40 chilometri con un dislivello complessivo di circa 1400 metri. Studiata in un percorso molto suggestivo, già dalla partenza come potete vedere sono partiti quasi in 400 domenica 24 maggio per allora sfidarsi su questa gara organizzata qui a Castelvetro in provincia di Modena. Ci sono, come vedremo nel corso della nostra sintesi filmata, degli scorci davvero belli, un'ambientazione molto suggestiva che fa da panorama anche alle prove degli nostri amici biker che avete visto partire. Avrete notato sicuramente che i leader di classifica indossano la maglia verde della Hill Cup ma avrete sicuramente scorto la maglia tricolore del campione italiano Marathon Mike Felderer che si è presentato anche lui al via di questa gara modenese. Maglie verdi che al momento sono sulle spalle dei biker colombiani della Felt International per esempio di Mario Rojas che vedremo tra poco all'opera nelle prime fasi. Ma ad affrontare in solitaria il comando la prima salita, quella di tre croci, si è presentato Yuri Ragnoli, biker della Felt International MTB Team, tallonato come vedete dal campione italiano Mike Felderer e dal colombiano compagno di squadra Mario Rojas. Vediamo chi si presenta alle loro spalle all'inseguimento, con il numero 4 c'è Julian Alfonso Becerra Medina, quindi Vega Burzi e Milo Burzi a inseguire nella quinta e sesta posizione assoluta con Vega Burzi con la maglia di leader della categoria Master 1. Siamo in vista della salita di tre croci, quindi aspettiamo insieme ai numerosi appassionati che si sono schierati al termine di questa asperità dove passa, vedete, Yuri Ragnoli che ha preso un discreto vantaggio sugli inseguitori in questo stupendo paesaggio collinare, i biker sono a circa un quarto della loro fatica dopo mezz'ora di gara, hanno raggiunto una quota di circa 450 metri. Sono 20 secondi che separano allora Mike Felderer, quindi Mario Rojas della Felt, Mike Felderer che gareggia per la sintesi corse, quindi compare a seguire Julian Alfonso Becerra Medina, anche lui per i colori bianconeri della Felt International. Allora 20 secondi il vantaggio, quindi diamo un'occhiata un po' più indietro, compaiono con il numero 60 Milo Burzi che quindi ha sopravanzato di poco il fratello Vega, eccolo, maglia verde. Della categoria Master 1, mentre ora a tre croci passa Massimo Sargenti del Tri Team, leader al momento della categoria Master 2. Uno stacco sul gruppone degli inseguitori in questo eccezionale scenario agreste, la nostra telecamera raggiunge la prima donna, ovvero la vedete con il numero 2 Mariangela Cerati del Team Colnago Arreghini Esercito, che dopo pochissimi chilometri ha già creato il vuoto dietro di sé nella gara femminile. Mentre c'è una sorpresa al comando di questa Graspalonga, ha ceduto Yuri Ragnoli, gli ha dato cambio il compagno di colori Mario Alberto Rojas, il colombiano, che vedete procede davanti al campione italiano Mike Felderer, staccato però di un minuto. Il nostro cronometraggio rileva questo distacco tra il colombiano e l'alto Atesino lungo questa salita che sta portando verso Ospitaletto. Vedete giornata particolarmente calda, questa domenica 24 maggio, in cui si è corsa la Graspalonga. In terza posizione passa Julian Alfonso Becerra Medina, anche lui della Felt. Quarta posizione per Massimo Sargenti, che lentamente va a scollinare, vedete. Mentre quinto è Vega Burzi, abbastanza affaticato dalla salita tagliagambe, ma anche dalla giornata particolarmente calda qui a Castelvetro in provincia di Modena. Diamo un'occhiata alla gara femminile passata da un po' la leader Cerati, ecco sfugge via dallo schermo Sandra Scurani del Tri Team. Mentre questa è la quarta atleta al momento in quarta posizione, Erika Gianni del Team Jaco Bike. Ricordo, non inquadrata, il secondo posto Paola Parmigiani del Team Sculazzo. I biker hanno affrontato anche la terza salita, quella di Pujanello. Sembra già tutto stabilito con questa posizione di testa, lo vedete transitare su asfalto molto veloce. Siamo in località Levizzano. Passa da solo Mario Rojas. A un minuto e venti la maglia tricolore di Mike Felderer della Sintesi Corse. Un vantaggio che sembra davvero delineare il podio finale, dove terzo sta transitando ora Julian Alfonso Becerra Medina, anche lui della Felt International. Suo distacco di 3 minuti e 50. A questo punto è già transitato Mario Alberto Rojas della Felt. Ora tocca a Mike Felderer passare davanti alla telecamera di MTB Granfondo. Siamo a 5 chilometri dall'arrivo. Eccoci ora, un chilometro dalla fine. La nostra telecamera si è posizionata a poca distanza dall'arrivo. Passa per primo Mike Felderer, il campione italiano della Sintesi Corse. Qualcosa è successo tra il quinto e l'ultimo chilometro. Secondo compare Julian Alfonso Becerra Medina della Felt International. Ha perso due posizioni Mario Alberto Rojas, che deve avere sbagliato percorso. Eccolo qui, lo dice anche davanti alla nostra telecamera. Un errore di interpretazione del tracciato gli sta costando la vittoria finale. Davvero una prestazione sfortunata per il colombiano della Felt, che ha guidato quasi tutta questa graspa longa al comando. Eccoci all'arrivo nel centro di Castelvetro, nella Rocca Medievale, all'interno di questo bellissimo sito. Arriva, così va lo sport. Mike Felderer per primo per la Sintesi Corse. Un'ora, 39 minuti e 29 secondi per il campione italiano. Quasi incredulo, infatti, di essere il vincitore di questa gara. L'avete visto, è arrivato con le mani sul manubrio. E al secondo posto, anche lui forse convinto di essere terzo, c'è Julian Alfonso Becerra Medina della Felt. E lo sconsolato Mario Rojas deve accontentarsi del terzo posto dopo la vittoria a Prato nella gara inaugurale. Oggi qui a Castelvetro si è classificato soltanto terzo. Quindi in atteso colpo di scena a concludere questa graspa longa, seconda tappa della Hill Cup. Siamo nelle colline modenesi, alcune di queste gare le seguiremo nel corso della stagione 2009 di MTB Gran Fondo. Vi ricordo, sono sei gare. Mentre siamo sulla leader della gara femminile, ovvero Mariangela Cerati del team Colnago Arreghini Esercito, che come dicevamo anche all'inizio ha fatto davvero il vuoto dietro di sé. La vedete arrivare molto felice all'arrivo, il suo tempo 2 ore 15 minuti e 37 secondi. Eccola festosa all'interno della rocca medievale di Castelvetro. Secondo posto per Sandra Scurani, 3 team. Suo ritardo è di circa 9 minuti, 9 minuti e 4 secondi. Terzo posto assoluto per Paola Parmigiani del team Sculazzo. Eccola qui che conclude molto contenta. Quarta Erika Gianni del team Jacobyk. E mentre i circa 400 biker che hanno partecipato a questa graspa longa si ristorano un po', vi ricordo, mentre vediamo anche le premiazioni, il podio femminile e quello maschile, vi ricordo la prossima tappa della Hill Cup domenica 7 giugno a Casteggio, in provincia di Pavia. Ci sarà la oltrepo MTB Race con le riprese di MTB Gran Fondo. Dopodiché a seguire, come ben sapete, la Hill Cup continuerà ancora in Emilia Romagna per la Gran Fondo del Cimone. Quindi in Trentino per la Veccia Ferrovia. Sesta prova a settembre nelle Marche con la Rampi Conero. Ecco le maglie verdi di Mariangela Cerati e di Mario Rojas. Insieme a tutti gli altri leader di classifica della Hill Cup è tutto da Castelvetro Modena. È ora di dare la parola al vincitore Mike Felderer. La Felt sicuramente aveva il vantaggio della squadra, infatti all'inizio hanno fatto parecchio gioco di squadra, scattava uno, chiudevo, scattava l'altro, chiudevo io. Poi nel finale è andato come è andato, mi dispiace. Infatti non sapevo neanche di essere in testa, però capitano queste cose diciamo. Allora Grazie a tutti.